Chi va là? Un amico del Tempio. Florac, il messaggio del Consiglio era chiaro. Non sei benvenuto. Devo vedere il Gran Maestro. Sta pregando, come tutti. Un altro giorno, forse. Re Filippo dissente. Tu, cane. Perché non stai marcendo in una cella? Io non lo capisco. Siamo traditi. Spade in pugno, amici. Difendiamo il Tempio. Non tu, fratello. Ho un altro compito per te. Seguimi. Pre Filippo è stato più veloce del previsto. Il Papa? Gli assassini. Gli assassini? Credevo che i Khan Mongoli li avessero sconfitti da tempo. Gli assassini risaltano prima di Massimo. Gli assassini. Gli assassini. Pre Filippo è stato più veloce del previsto. Qualcun altro è all'opera. Il Papa? Gli assassini. Gli assassini? Credevo che i Khan Mongoli li avessero sconfitti da tempo. Gli assassini risalgono a punto di Massimo, mio caro. La loro folle anarchia è il peggio della peste nero. Mi pare il libro. Stanotte avremo la peggio, ma se ti sbrighi, salveremo loro. Cosa devo fare? Va alla torre. Prendi la spada e il libro. Nascondite. Non devono finire in mano agli assassini. Gra maestro. Tenete il ponte! Su! Ti amico. Dovrò cambiare percorso. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Fermatelo! Non fatelo passare! La torre! Sono entrati nella torre! Hanno preso... La torre! 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 Fermatelo! 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 Grazie a tutti 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 Così ebbe fine l'era della vera saggezza I cavalieri templari, un tempo portatori di ordine, pace e conoscenza, non resistevano più Sì, mandiamo uno sniffer Grazie a tutti Per ora, per ora, vorremmo che vivessi un frammento della vita, così capirai la nostra lotta Alla fine, deciderai tu stesso cosa vuoi fare Ti aspettiamo Grazie a tutti Arnaud, non posso venire padre Forza figliolo, tu resta qui ad aspettarmi Io tornerò quando la lancetta sarà in cima, non è affatto vero e quando torno vedrai che fuochi d'artificio Arnaud, non è affatto? Sì, non è affatto? Di qua Guardie, guardie Maurice, fate una rossa presto, presto Dai Non ne ruberai mezza Ladro! Metti laggiù! Fanculo! Che cazzo succede? Peccato! Queste sono della tua manità Presto, di qua Visto che faccia è quando abbiamo preso gli mele Sono Arnaud Elise Sono qui con mio padre Anch'io Ha importanti affari con il re Che cosa facciamo ora? Senti Tranquillo, non verranno mai a cercarci qui È solo colpa mia Ho preso io quella mela Vediamo dove vanno Svelto Presto Signor Franklin, spero che questa disgrazia non alteri la vostra opinione sulla Francia Se giudicassino le nazioni in base a... Elise Padre Tutti i popoli sarebbero Vieni qui tu, ora Padre Vieni via, pico Arnaud Arnaud Guardami Avvodet Non fai vincere a carte e ti riduci a rubare, bastardo! Calmati, Victor, sono qui per il mio orologio! È il mio orologio! L'ho vinto! Beh, in un mondo onesto, Victor, sarei d'accordo, ma non in questo. Siamo in Francia. Io ti ammazzo! Stai attento, ti farei male! Ho fatto una visitina a tuo fratello. Hugo, chiama le guardie! Un attimo! Al diavolo! L'ho preso, Victor! Non lo prenderà più! Sì, insomma! Scusate! Pardon, signore! Levati! Fuori dai piedi! Via! Signori, vi prego! Possiamo trovare un accordo! Scusate, non è stato addomesticato! Scusate! Ce ne ho scusare! Si, è stato addomobile! Si! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il saggio sa quando deve arrendersi, Vittorio. 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 Grazie a tutti. 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 Ci penso io. Deve riceverla oggi. È molto... Molto importante. Sì, l'avete già detto. Farò in modo che accada. Signor de la Serre, si fermi! Peccato, amico. Dovrai fare il giro. Fate largo! Via! Non credo. Che cosa? Diamine, rallenta! A quanto pare le finiture in noce sono di gran moda. Chi guida la carrozza? Chi guida la carrozza? Pelope, forse? Signor de la Serre! Signor de la Serre! chiedo scusa, ho sbagliato. Devo salire ancora più in alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccovi là. Eccovi là. Parigi. Mi stanno avvertiti. Resta in fila. C'è una cosa che mi mostro. Resta in fila. 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 Grazie a tutti. 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 Dove diavolo sono? Il cuore al nostro regno e grande felicità alla nostra nazione. Grazie a tutti. Il cuore al momento della mia incoronazione è cresciuto. Ciò ha comportato un aumento delle tasse... di cui si lamenta ora... Un'inquietudine generale... Di nuovo quei due... Devono avermi pedinato fin dalla tenuta. Allora, chi sarà a prendere il suo posto? Un altro re? Un consiglio di saggi? È questa la domanda. Non è vero? Tregua dunque. Ma che diavolo succede? Calma! Possiamo risolvere tutto senza violenza, non è così? prendilo! Prendilo, Ugo! Calma! Calma, amico! Vediamo se riusci... Tienilo fermo, Ugo! Pronto per... Schiaccialo! Non è giornata, vero Victor? Aprite il cubito! Li lascio a voi, signori! Tu! Fermo! Cosa diavolo fai lì? Scappo! La voce è salata. Oh! 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 Mentre hai sentito in sintonia! Oh! 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 Ok, tu ti voglio? Non c'è modo di rientrare Li raggiungerò a casa Grazie a tutti Grazie a tutti